Dietro a fronte del Financial Times, a 24 ore dall'editoriale di Wolfgang Munchau che aveva criticato apertamente il premier uscente definendo Mario Monti inadeguato a governare il paese, il quotidiano economico britannico prende le distanze dal suo editorialista e smorsa l'attacco. Boccia senza appello Silvio Berlusconi, ha portato l'Italia sull'orro del precipizio fiscale e corregge il tiro sul professore al quale affianca anche il leader democratico. Mario Monti e Pierluigi Bersani hanno credibilità personale, si legge nell'articolo, anche se non mancano le critiche ad entrambi i candidati per non aver ancora messo a punto una politica economica convincente. Sottolinea che Bersani rischia di rimanere ostaggio dell'alla sinistra del suo partito, mentre Monti deve ancora spiegare dove prenderà i soldi per sostenere Italia le tasse che ha promesso. Il sostanziale passo indietro del Financial Times è stato innescato dalla risposta di Monti. È solo l'opinione di un editorialista anti-europeista, ha scritto il Premier, che ha rivendicato l'operato senza precedenti del suo governo per tenere bassi prezzi e creare più lavoro nel settore dei servizi. Per il Premier il lavoro non è ancora finito, per questo ha deciso di entrare nell'arena politica, con un diktat per tutti i suoi collaboratori, vietato parlare di alleanze future. I Montiani corrono per vincere da soli, di alleanze si parlerà dopo e se schieramento ci sarà, sarà con chi avrà il più alto tasso di riformismo possibile e il suo partito non farà da stampella nessuno, tantomeno a Bersani. Il leader democratico intanto continua la sua campagna elettorale, con qualche polemica verso Monti, al quale rimprovera l'appoggio ad Albertini in Lombardia invece di Ambrosoli, espressione autentica della società civile. Molti attacchi contro l'avversario Berlusconi, è un mago in grado di riproporsi con grande forza, un capitano che ha portato la nave sugli scogli, ha detto ieri sera ospite di Sky, e tante frecciate sul voto utile ai fratellastri del centro-sinistra, come in groia. Al leader di rivoluzione civile che aveva chiesto a Bendola che sinistra è quella che governa con Monti, Bersani ha risposto che sinistra è quella che rischia di far vincere la destra. Non credo il suo movimento riesca a raggiungere il quorum al Senato, ha aggiunto il leader del PD, lanciando un messaggio trasversale, chi prenderà più voti e chi governerà il paese.